un saluto a tutti a snowkills e ben ritrovati in un nuovo video sul limbo l'ultima volta siamo rimasti a questo ingranaggio che cosa è successo che registrato l'episodio e nuovamente non me lo ha registrato quindi so come si superano i successivi ostacoli di questo episodio e li andremo a fare di conseguenza un pochino più rapidamente allora se ben me ricordo che sono passati un paio di giorni allora bisogna fare così poi salire far cadere i funghetti qui che verranno divorati da quel coso lì noi gli mettiamo paura non lo facciamo tornare nella nella sua tana lo spingiamo all'interno della ruota dove lui inizierà a girare bene a questo punto tiriamo la leva no spingiamo la leva finché non si distrugge perfetto ok possiamo proseguire pezzo non difficilissimo comunque andiamo avanti cosa abbiamo qui abbiamo l'acqua ok allora dobbiamo far riempire questa vasca d'acqua tiriamo il tronco a metà in modo da poter saltare facciamo così ok poi catena vai riempiti d'acqua bidone dondoliamo per andare più vicini facciamo così e così perfetto proseguiamo verso il prossimo ostacolo senza indugi e senza timore saltando ovviamente vediamo un po se va più veloce camminando è uguale proprio allora in quel magma si muore in quella specie di petrolio lì cos'è non so cosa sia quindi pronti al jump no qui non è pronti al jump qui dobbiamo spingere questo coso oddio adesso inizia a diventare un pochettino più complicato allora spingiamo in avanti questo non troppo avanti lo dobbiamo spingere qui qui un po' più avanti ok poi bisogna tirare la leva salire aprire questo fare così poi saltare sullo scatolone e aspettiamo di arrivare fino alla scala ovviamente il bambino angosciato che osserva vai e si jumpa poi scatola da mettere qui aspettando che sale il livello sono in equilibrio sulla scatola perfetto scatola che pian piano va affondando ok ora jump perfetto poi bisogna aprire qua questo tra poco salta e appena si rompe la catena sotto e appena si rompe la catena sotto noi lo mettiamo qui spingiamo oddio non lo sapevo no no fuck shit 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 sali palloncino sali ok facciamo così spingiamo ritorniamo su e ci andiamo a mettere ovviamente su questo scatolo di legno che grazie al palloncino salirà fin su vai agisci bisogna rimanerci in equilibrio sopra ok ci siamo vai prossimo ostacolo che cosa abbiamo qui allora basso leggermente la luce perché non vedo più niente scendiamo giù chiudiamo dovrebbe essere così adesso come scende bisognerebbe riuscirci a salire vai facciamo così ok perfetto allora andiamo avanti proseguiamo per di qua che c'è la luce la luce ci fa già sospettare al vermone ed eccolo qua il vermone allora dondola quindi quando dondola di qua bisogna tirare la scatola spingerla più non mi cadere in testa spingerla qui poi facciamo acchiappare dal vermone saliamo andiamo alla luce cambiamo quindi direzione torniamo per di qua andiamo su una scala un'altra scala no scendiamo giù per di qua saltiamo qui perfetto dai come on 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 cambia direzione dai vai 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 torna di là torna di là vai su poi salta di qua torna di qua e torna la luce che ci farà di nuovo tornare di là ah no dovevo tipo portare il tubo ah no il tubo viene da solo ok vai aspettiamo che emerge che viene a galla ok e come si può già notare sulla destra sono presenti i mangiavermoni quindi sono saltato un po' troppo presto forse no vai mangiatevelo perfetto allora vediamo che cosa abbiamo qui abbiamo acqua è una scala quindi come se non ci fosse un dio mani ci arrampichiamo a sinistra non c'è nulla è assodato possiamo quindi andare a destra allora saltare questo super jump andiamo avanti qui c'è vai ok ci arrampichiamo sul tubo saltiamo andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti ok allora vai nooo per una frazione di secondo vai nooo ho sbagliato il tempo buttati e prendi la corda e salta e tira la leva ok otal si spegne così noi possiamo andare di qua e ripercorrerci tutto il percorso tutto il percorso è al contrario vai jump sull'h e poi sull'h e poi sull'e e poi sull'e e sull'l e un'altra l al contrario ho scelto oh fuck oh fuck oh fuck jump perfetto e si va avanti si va avanti come se non ci fosse un domani verso di qua e jump metodo da rompere metodo da rompere tuttiri di jump bam salta 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 è qua andiamo giù andiamo giù e si va qui spostiamoci altrimenti ci cade addosso che succedeva qua che qua bisogna bisogna tipo portarci qualcosa trascinarci qualcosa vediamo un po' vediamo un po' che cosa c'è avanti cosa ci sarà mai il vermone ragazzi il vermone e direi che con l'immagine di questo vermone e quindi ci aspetta qualcosa di elettrizzante possiamo chiudere questo episodio di limbo lasciate un bel like e un commento fatemi sapere cosa ne pensate di questo gioco io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video e ciao Grazie per la visione